La Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Il decreto Genova era giusto quando diceva che Aspi e Benetton non potevano ricostruire il ponte che per incuria avevano lasciato crollare. Ma non è solo questa la questione, anche se è importante, perché se Aspi avesse vinto ricorso alla Corte Costituzionale avrebbero massacrato e sottoscritto il Movimento 5 Stelle e il decreto Genova dicendo che fosse incostituzionale. Invece è costituzionale, abbiamo vinto noi, in poco più di un anno abbiamo costruito il ponte, non l'abbiamo fatto costruire a chi l'ha fatto crollare, ma l'abbiamo fatto pagare, pagare a chi l'aveva fatto crollare, i Benetton. Poi c'è un'altra questione, la questione delle cazzate, della fake news, ma perché se in Italia ci fosse una pena per le cazzate, le fake news, Meloni e Salvini avrebbero l'ergasto multiplo. Oggi, dedovi conto perché non ci si riesce più neanche a arrabbiare, oggi Salvini ha detto che non è sua la responsabilità della mancata revoca ai Benetton quando eravamo al governo con lui, perché a Conte il Movimento 5 Stelle non decidevano mai. Ma dove cazzo stavi, ama te, abbiamo fatto riunioni su riunioni per decidere e a Conte gli veniva, doveva essere dato l'indirizzo politico e tu non c'eri, non partecipavi perché te la facevi sotto, perché alla fine, eh? Aspi, Benetton, in qualche maniera la Lega l'hanno finanziata e tu facevi il duro con davanti la telecamera, ma nei fatti non è mai voluto, quindi se ci fosse una pena per le fake news delle cazzate, ahimè butterebbero via la chiave del carcere. Ma la cosa è grave, perché stai mentendo ai cittadini, perché anche la Meloni, ma la Meloni, la Meloni, ma cos'è che ha detto United Color of 5 Stelle? Ma ragazzi miei, chi segue? Chi deve darci una mano? Perché questo è un mondo ribaltato in cui i benefattori come il Movimento 5 Stelle vengono trasformati dal sistema politico, affaristico e mediatico come di malfattori. Se i Benetton sono diventati così ricchi e potenti, tali da comprarsi tutto ragazzi, hanno comprato qualsiasi cosa, finanziando, però, però, legittimamente, la cosa grave è legittimamente hanno finanziato politici, hanno finanziato partite, hanno finanziato giornali, hanno finanziato fondazioni politiche, hanno finanziato tutti, si sono comprati tutti, davano l'indirizzo a tutti, ai giornali, di distruggere la reputazione di uno, magari sottoscritto che faceva le cose per bene, e dall'altra parte, invece, a difendere la reputazione di un altro, che in realtà non faceva gli interessi dei cittadini. Ma Meloni e Salvini, sapete perché sono stati così potenti e ricchi? Perché l'avete fatta a voi quella legge che ha regalato le autostrade Benetton? Prima l'ha fatta Prodi nello suo governo, e poi l'avete ratificata voi col governo Berlusconi, dove c'eravate voi, magari avevate nomi diversi, si chiamavate Lega Nord, o vi chiamavate Alleanza Nazionale, non lo so, non mi ricordo, ma l'avete fatto voi, e noi abbiamo scritto un decreto bello, Genova, il decreto Genova, che ha ridato un ponte a quella città, e non veniteci a rompere i coglioni oggi, dicendo che non stiamo decidendo, perché la revoca, visto che la legge l'avete fatta a voi, l'avete fatta a voi, la legge che aveva trasformato in legge quella convenzione, per essere cancellata, essendo una legge dallo Stato, che passa dal Parlamento, mi pare, se Salvini e Meloni conoscono la Costituzione, necessita di un passaggio in Parlamento, che la Lega non ci ha mai dato, ma credetemi, ma io ve lo sto dicendo con totale sincerità, sapete, chi mi conosce lo sale, quando sbaglio ammetto l'errore, chiedo scusa, ma qua non abbiamo sbagliato, e adesso non ce la sta dando il PD, che deve dire perché, che interessi c'ha a non farlo, che paure c'ha, la Corte dei Conti ha bocciato quella convenzione dicendole illegittima, l'ANAC ha bocciato quella convenzione, gli ingegneri hanno bocciato quella convenzione, gli giuristi hanno bocciato quella convenzione, la Corte Costituzionale l'ha bocciati, cosa aspettate? Che interessi avete da nascondere? Siamo pronti, siamo pronti a cacciare il Beneto, la famiglia più potente che c'è in Italia, che ha condizionato tutti pure le menti e la democrazia, facendo passare i benefattori per i malfattori, siamo pronti a cacciarli dalle concessioni, siamo pronti, Ministra De Micheli, svegliati, fallo, in Abbi, prendi l'iniziativa, noi ci siamo, Moietto 5 Stelle c'è con tutti i suoi voti in Parlamento, c'è, ci siamo, cacciamo i Benetton, ristabiliamo la normalità nella gestione di un bene di Stato, rispettiamo le famiglie delle 43 vittime che stanno, ma come possono accettare una roba del genere, il ponte dato, il ponte dato ai Benetton, ma Micheli che cosa, che cos'è quella cosa lì, che cos'è? Va chiusa la trattativa, va chiuso tutto, va revocato, vanno cacciati i Benetton, vanno cacciati, vanno cacciati, vanno cacciati, perché non hanno gestito quello che dovevano fare e rimettiamo le cose a posto e andiamo avanti, poi su recovery fast e tutto quanto e li asfaltiamo in meloni salvini, il re e la regina, il re delle cazzate e delle fake news e nessuno dica che è colpa nostra, perché questo mi fa incazzare profondamente, nessuno dica che è colpa nostra, perché noi abbiamo sempre lottato e siamo stati buoni, siamo stati buoni fino adesso, fino adesso siamo stati buoni, però adesso torniamo ad incazzarci, perché le cose devono essere messe a posto prima della consegna e prima dell'inaugurazione del ponte.